L'emozione questa mattina era così densa e diffusa che la si poteva quasi toccare, serpeggiava tra tutti i presenti, dai militari ai semplici curiosi, agli alunni della scuola Polloni. La solennità della cerimonia era enfatizzata dal picchietto d'onore armato del comando del reggimento San Marco, giunto appositamente dalla base di Brindisi con il suo comandante, il contrammilaglio Cesare Petragnani. Al monumento ai caduti del mare al porto di Fano questa mattina si sono vissuti momenti di grande trasporto emotivo per l'inaugurazione del monumento in onore del Marò, Filippo Montesi, caduto vittima di un'imboscata a Beirut durante la missione di pace italiana Libano II nel 1983. Assieme ai Leoni del San Marco, uno dei corpi d'elite delle nostre forze armate, tuttora impegnato con i suoi battaglioni in diversi scenari operativi internazionali, marinai in congedo dell'ANMI, suoi ex commilitoni che condivisero con lui la missione di pace in Libano e i tragici momenti dell'attentato in cui cadde vittima e naturalmente i familiari di Filippo. Fra tutti, nelle voci rotte dal ricordo, viva era la sensazione come se tutto fosse successo da poco, tanto era forte la memoria ed il segno che il primo caduto italiano in uno scenario operativo dopo la seconda guerra mondiale ha lasciato in ognuno di loro, come anche nello stesso comandante che visibilmente emozionato ha raccontato a tutti come lui stesso visse quei tragici momenti. È un momento veramente importante, di una profondità che noi avvertiamo. Come dicevo nel mio discorso, Filippo è un simbolo, cioè rappresenta tutti quei valori in cui noi crediamo, noi veniamo allevati nel senso di dedizione e devozione alle istituzioni, ho generosità al coraggio e come ogni simbolo ogni tanto bisogna risvegliarlo, rinverdirlo. Oggi è successo questo, sono felice di essere in questo momento il comandante della brigata e di vivere questo momento assieme alla città di Fano. La solenne cerimonia era però iniziata un'ora prima nella chiesa del Porto dove presenti le massime cariche civili e militari della città, il parroco di allora, Don Luigi Spallacci, ha ricordato la toccante cerimonia presente anche al tempo anche il Presidente dei Presidenti della Repubblica Italiana, l'amatissimo Sandro Pertini. Una bella giornata, un grazie di cuore all'Associazione Marina e d'Italia che hanno promosso questa iniziativa per il lavoro che svolgono nella nostra città. E un grazie anche agli studenti e questo mi fa piacere perché significa veramente che la comunità è tutta insieme che hanno progettato il monumento.